Con il risultato all'ingresso i rimini torna a sorridere, sbarazzandosi dell'avversario di turno chiamato Sporting Trestina. Muccio in avvio, rinuncia alla coppia offensiva composta a Buonaventura Ambrosini, spazio a Cicarevi e a Arlotti, supportati in linea esterna dallo sprint del solito goiebre. Gli ospiti cercano punti importanti in Romagna, approfittando di un rimini che arriva dallo scivolone di Imola. In effetti, nei primi dieci minuti di gara non succede assolutamente nulla. Poi a quattordicesimo, un palese errore difensore degli ospiti, porta il teo dal limite a Cicarevic, conclusione ribattuta da un difensore i corner. Primo angolo della partita, nella azione alla banderia, dopo un batte ribatti, la palla arriva a Cicarevic che insacca in diagonale, ma il guardaline segna la posizione di fuorigioco. Passano una decina di minuti, lo stesso Monteregrino prova a risolvere di testa due passi dal portiere, che riesce a ribbiare ancora sui suoi piedi, ma dalla posizione di filata alza la palla sopra la traversa. L'occasione più limpida per i bianco-rossi, con gli ospiti ancora assenti, fatto di pericolosità, avviene attorno alla mezz'ora, quando la lotte su cross di cola trova un diagonale melenoso che c'entra il palo. Lo Sporting Trestina non riesce ad uscire dalla propria metà campo e quasi quasi la beffa arriva da sola, quando Guglielmo fa su una palla che sembrava sfilare sul fondo. Cross dentro, un difensore ci mette una pezza, rischiando l'incredibile autorete. Solo con lo stesso Guglielmo, in cui c'è di tempo, e segue un tiro che termina a fin di palo. Nella ripresa, Irimini prova da subito a sbloccare la gara di Ghina terzo e segue un bolide da fuoriare, che però ci alza tanto, sopra la traversa di Garbinesi. Un minuto dopo ci fa vedere lo Sporting Trestina, con un cross da tre quarti sinistra per la testa di Villanova, che non arriva, per un soffio. Dall'altra parte, anche Valeriani ci prova dalla distanza, facendo arrabbiare pubblico e compagni per non aver allargato l'azione. Palla altissima. Al settimo, Irimini sblocca la situazione, a notti servito da Cicarevice trova all'esterno destro il vincente, che manda in delirio il pubblico amico, recando un sorriso anche alla panchina bianco-rossa. La troppa esultanza, con conseguente abbandono della maglietta, vale una munizione, ma per il ragazzo del Pogna Espresso questo è alto. Irimini insiste, ottimo lavoro di Guiebe, che sulla farsa salta due uomini, arriva sul fondo e crossa bucando le mani del portiere, ma sul secondo palo Vitti non ci arriva e la palla sfila in fallo laterale. Lo sport in Trestina si fa vedere con la semi-rovesciata di Ridolfi, su assist di Villanova, che sfiora la traversa dalla porta, difesa da Scotti. A quarantesimo, gli ospiti vanno vicino al bersaglio, sferando i gol dei pari, con il tiro potente in diagonale di Marconi, che termina di un nulla, alla destra di Scotti. Ma al gol sbagliato, di conseguenza, corrisponde alla cosiddetta regola del calcio. Gol incassato. Quarantaquattresimo, Rimini che perviene al raddoppio e Guiebe di esterno sinistro piega le mani al portiere, sul suo palo, e fisso il punteggio sul 2-0. Gioia anche per l'esterno bianco-rosso, tra i migliori di questo match. All'ultimo respiro, Petti rischia l'incredibile autorete su un cross da sinistra e regala il primo angolo della partita allo Sporting Trestina. Termina qui una partita che riporta i Rimini nei piani alti della classifica, approfittando anche del pareggio del Fiorezzola contro il Romagna Centro. Prossimo avversario dei bianco-rossi, sabato prossimo, Aldino Manuzzi, di Cesena.